Ridurre le liste d'attesa, questo l'obiettivo dell'ASP che nei giorni scorsi ha siglato con le sigle sindacali della dirigenza sanitaria, medica, non medica e veterinaria, un protocollo d'intesa riguardo l'attività libero-professionale intramuraria, ossia quella svolta all'interno delle strutture sanitarie. L'accordo prevede la costituzione di un fondo che sarà destinato alle prestazioni con liste d'attesa più lunghe di 90 giorni. Fondo che sarà finanziato con somme messe a disposizione da parte dell'azienda e dagli stessi professionisti che rinunceranno al 10% degli emolumenti derivanti dalle prestazioni. Questa è una delle azioni previste dai vertici dell'ASP per cercare di migliorare i tempi delle liste d'attesa che spesso superano anche un anno, creando malumori nei cittadini. La prima direttrice è quella di andare a verificare le agende, cioè fare in modo che chi è prenotato venga raggiunto un determinato tempo prima per avere la conferma che il paziente deve eseguire quella prestazione, perché molti pazienti prenotano la prestazione, poi la eseguono in un altro posto e non liberano il posto nell'agenda. La seconda azione che stiamo facendo è quella che tutta l'attività della medicina convenzionata, accreditata, che per decreto deve essere inserita nelle agende del CUP e non lo è mai stato, tanto per darvi le dimensioni sono circa 10 milioni di euro di prestazione, ho seglato un accordo, ho messo un addendum nel contratto con i convenzionati, con gli accreditati e le loro prestazioni saranno inserite nel CUP unico. Quindi un cittadino, porto l'esempio, che deve fare una visita oculistica, non solo avrà la disponibilità della struttura e vedrà qual è il primo tempo utile, ma avrà la disponibilità di tutti gli accreditati oculisti e quindi probabilmente troverà nell'agenda la disponibilità per quella prestazione in un accreditato in tempi brevissimi, come così com'è, perché sono sempre prestazioni che fanno parte del sistema sanitario regionale. L'altro atto, che è quello che abbiamo siglato con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica, è un atto che secondo me è estremamente importante per tutte quelle prestazioni che superano i 90 giorni, la percentuale di suddivisione viene diminuita del 10% per la parte che percepisce il professionista e per la parte che percepisce l'amministrazione. Questo 20% viene accantonato in un apposito fondo ed io come amministrazione comprerò dal professionista altre prestazioni che mi faranno abbattere la lista d'attesa. Ritengo che queste tre azioni possano, e questo lo verificheremo sul campo, portare un miglioramento di quella che è l'attesa dei pazienti per quelle che sono le prestazioni che vengono erogate nel contesto dell'assistenza che noi diamo nell'ambito provinciale.